La pagina del Covid, l'Abruzzo torna in zona arancione ancora per una settimana. La conferma arriva dalla cabina di regia nazionale, quella del Ministero della Salute a Roma, dopo la presa visione di un leggero calo dell'RT, ovvero l'indice di contagio che era passato proprio nella settimana interessata dall'1,22 all'1,17. Restano tuttavia in zona rossa fino al 28 febbraio le province di Pescara e Chieti.